Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Krix e oggi ragazzi siamo tornati su GTA Online Siamo qui con una nuova modalità competizione ragazzi, questa è la modalità competizione chiamata estrazione E' stata aggiunta con l'ultimo aggiornamento, mi pare, dirigenti e altri criminali In pratica consiste, c'è una squadra di sicari e una squadra di guardi del corpo Noi in questo momento facciamo parte dei sicari e dobbiamo appunto intercettare il bersaglio Di cui abbiamo parlato anche in un precedente video Mentre le guardi del corpo devono trovare il bersaglio e portarlo in salvo Comunque si ragazzi non sono da solo, qui con me c'è un mio carissimo amico youtuber, presentati pure Bella raga, sono Luca Gernone Si, quindi ragazzi passate dal suo canale che vi lascerò il link in descrizione E' uno youtuber che ha anche modder fra l'altro Non so se effettivamente adesso ancora la Xbox modificata Comunque se vi serve un racconto modato passate da lui ragazzi, fa ottimi prezzi E allora, io sono arrivato Luca, anche se tu fai le guardie del corpo Io sono arrivato Si, si, io fra un po' arrivo Ok, tu in pratica devi intercettare il bersaglio e devi portarlo in salvo Mentre io devo trovarlo e devo eliminarlo Che cazzo? No, mi hanno sparato Ma da dove? Da dove vorrei capire? Da dove? Ok, io sono quasi arrivato No, guardo, basta Ok, l'abbiamo ammazzato Primo round ho portato a casa Vinto, easy Olè, portiamoci a casa ragazzi Il primo round vai così con il prossimo round Ok, eccoci qua, un nuovo round Adesso siamo nei guardi del corpo Sono una guardia del corpo Perfetto proprio Quindi direi di andare con le moto Tanto sono da solo Quindi Allora, trovi il bersaglio Ok, il bersaglio è qua Forse Vediamo un po' Dove si trova Ci avviciniamo Ci avviciniamo Vediamo un po' Quindi raga Dobbiamo trovare il sigario Allora Il sigario Il bersaglio Ok, i tubi dinamici qua Ah, ma sto bersaglio si sta Si sta nascondendo bene Oh, eccolo Eccolo qua Eccolo io Trovato Ok, perfetto Bomba adesiva Vediamo un po' Surprise, mother fuck Ah, si Vediamo anche le mine Tu quindi ora devi difendere Ok, ragazzi abbiamo preso il bersaglio Quindi abbiamo portato in salvo Dobbiamo portarlo in salvo Lascio una bella granata qua Dai Spiate sta granata a limone E sta zitto proprio Vai, passa di qua E boom Ah, per poco Per poco Non ci credo No, 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 no Oh, si, si, si Sta andando a fuoco No, che cazzo Come Come ha fatto No No, non ci credo No, ragazzi L'avevamo fatto Complimenti Se non facevo il coglione Guarda Ce l'avevamo fatta Ok Nuovo round Nuovo round Stai siamo i squadri insieme Ah, no Stai di nuovo con game news Vabbè da prendiamo Prendiamo il valkire No, prendiamo il valkire Prendiamo il valkire Prendiamo il valkire Che un elicottero dall'alto È sempre buono Ah, Kree Tu sei la guardia del corpo No, no, io il sicario Le squadre non sono tanto Solite Ecco, cioè Non sono tanto equilibrate Però Questo qua è membro della mia crew Quindi Ma questo sa guidare l'elicottero Ragazzi Questo non sa guidare l'elicottero Oh, oh, oh Questo non sa guidare No, non andare per terra Vieni Hola Allora Andiamo un po' dove si trova È là Sì, ma il problema Che quello della mia squadra La guardia del corpo Dai, vieni qua Vieni qua Guarda che ignorante Ah, ma sei tu il bersaglio Oh, cazzo Eh, ma dai Sì, sì Sei tu il bersaglio Eccoti Ti ho preso Ti ho visto Ti ho visto Ti ho visto No, no, no Cosa fai? Vieni, vieni Ti ho visto Ti ho visto Ti ho visto Dove cazzo stai andando? Mica, quando cazzo sei veloce Ah, hai preso l'elicottero Bastardo Hai preso l'elicottero Non è che ho preso Mi hanno Mi hanno portato in elicottero Ah, bastardo Dai, Kree Vai, vai, vai Vieni, che c'è una be... Oh, cazzo No, 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 no Ah, ma tu anche tu hai preso il Valkyrie Oh, cazzo Kree, Kree, sono io che si sto sparando Mi sto divertendo La guerra più epica nei cieli di Los Santos Ragazzi Vai, 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 vai Per terra Giù, giù, giù Sì Ok, abbiamo Che cuore, non mi arrivati Come è, partita perdendo Non ci credo Non ci credo Non ci voglio credere Non ci voglio credere Ho vinto Dai, vabbè, dai, non importa Ci sta, ci sta Dunque, se ragazzi Una modalità come edizione molto figa Mi sta piacendo abbastanza Poi non so il parere di Luca Luca, tu che ne pensi? Eh, è stata bella, dai E? Mi è piaciuta È la prima volta che lo faccio Sì, dai Questa è la terza mappa E ci sono cinque mappe Di questa modalità competizione Quindi Raga, niente Ci vediamo subito Nella prossima mappa Ed eccoci qua, ragazzi Nuova mappa Mappa numero 4 Di Questa qua Estrazione Oh, dai, veramente Una modalità molto molto figa Mi gusta, dai Mi gusta parecchio Allora, sono in squadra con Luca No, no, Luca Prendiamo l'elicottero Prendiamo l'elicottero Frena, 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 frena Prendi l'elicottero Ok, allora L'estrazione La zona di estrazione sta qua Tu basta che Voli basso In modo che io riesco Ad individuare il bersaglio E... Ah, no, aspetta Siamo nei quadri del corpo Quindi dobbiamo intercertarlo Ok, allora Sto avviando l'app Meno 78 Ok, un po' più basso Luca Un po' più basso Eccolo Perfetto Fallo salire Fallo salire Ok, vai Doppia Doppia per Krix Doppia Doppia per Krix Attenzione Ok, andiamo così Perfetto ragazzi Abbiamo il bersaglio Vai Luca Sagli dietro Resi Doppia Ah, no, no Ok, perfetto Ok, ti sto dietro Ti sto dietro Allora E... È meglio adesso Ho finito le bombe No, no, ok Ce l'ho ancora Ce l'abbiamo fatta E ce l'abbiamo fatta ragazzi E portiamoci a casa Il primo round Voi così con il prossimo Ok, eccoci qua ragazzi E... Facciamo parte dei sigari Oh, oh, arrivano 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 Eccoli Avanti così Vai che la forza Li buttiamo a terra Olè Suicidati ragazzi Proprio Mamma mia Oh, si stanno sparando Si stanno massacrando Chi è? Chi è ragazzi? Chi è? Possibile che non ha il mio Hola Perfetto Allora, ci diamo qua a terra ragazzi Dobbiamo cercare il vero Oh, cazzo Cazzo Vai così Vai così Vai così Che cosa? Vincitore Ma come ragazzi? Non ho capito Forse abbiamo vinto una partita Quindi ragazzi Il video di oggi si conclude qua Alla fine ho scoperto Grazie In descrizione Quindi trovate Instagram Facebook e Twitter In descrizione Quindi ragazzi Seguitemi su tutti i social network Ringrazio Luca Che è stato gentilmente Qui con me A registrare questo video Saluta Bella raga E niente Il video come ho già detto Troverete il link Del suo canale In descrizione Quindi ragazzi Qua da Crix è tutto Io vi saluto Vi ringrazio E niente ci vediamo Alla prossimo video BALAAAN